Partiamo da lontano, da molto lontano, 800 milioni di anni, un tempo che la nostra mente nemmeno riesce a concepire. Ebbene, la parte più esterna della Terra, la crosta, così come oggi la conosciamo, ha preso quella forma per effetto di un processo molto complesso che vediamo rappresentato in modo semplificato in questa animazione. Quello che è importante comprendere è che questi movimenti della crosta, che oggi siamo in grado di osservare con le reti satellitari, sono movimenti lentissimi, di millimetri all'anno o di pochi centimetri all'anno, e quindi in tempi lunghissimi, nell'ordine di milioni di anni, hanno esiti rappresentati nell'animazione. Un altro aspetto altrettanto importante è che in questi processi sono in gioco energie enormi. In questa rappresentazione sono riconoscibili quelli che chiamiamo placche continentali, che si muovono in modo differenziato l'una rispetto all'altra. Se osserviamo la distribuzione dei terremoti su scala globale, appare evidente che i forti terremoti si concentrano esattamente lungo i margini delle placche. Tutto questo avviene perché all'interno della Terra, al di sotto della crosta, che ha uno spessore medio di circa 40 chilometri, avvengono quelli che chiamiamo moti convettivi, e cioè dei processi di risalita e di discesa di materiali ad altissima temperatura, che determinano sulla crosta tensioni molto forti, che nel corso del tempo hanno generato fratture che chiamiamo faglie. E ogni tanto, sotto l'effetto di queste spinte, le faglie si muovono generando terremoti. Quello che noi intanto sperimentiamo come terremoto, come scuotimento del terreno sotto i nostri piedi, è una manifestazione di questi processi di enorme dimensione e grande complessità. Ma come facciamo a capire dove sono le faglie, quanto sono grandi e quanto sono prossime a muoversi per effetto delle tensioni accumulate in profondità? Beh, alcune cose i geologi e i sismologi riescono a vederle, alcune faglie, le più grandi, sono visibili in superficie. Decenni di misure satellitari possono indicare dove si è accumulata la deformazione, ma è soprattutto attraverso la ricostruzione della storia sismica che riusciamo a capire dove gli sforzi sono maggiori. La sismologia storica è la disciplina anche su dei terremoti del passato per ricostruire quella che è la storia sismica del nostro paese e la mappa che vediamo è la sintesi delle informazioni raccolte in questi decenni. Questa mappa ci dice quali sono le zone dove avvengono i terremoti più forti, l'Italia nord-orientale, le Alpi occidentali, l'Appennino settentrionale e centrale e soprattutto l'Appennino meridionale, l'Arco Calabro e la Sicilia sud-orientale, dove in passato ci sono verificati terremoti di magnitudo intorno a 7, vale a dire 10-15 volte più forti del più forte terremoto della sequenza dell'Italia centrale del 2016. Occorre però essere consapevoli che in tutti i comuni italiani sono possibili danni da terremoto. Questi dati, insieme a quelli geologici e strumentali, ci consentono di produrre mappe di pericolosità come quella che vediamo, mappe che rappresentano la probabilità di occorrenza di un determinato scuotimento in un intervallo di tempo definito. Non stiamo parlando di previsioni, tanto meno di quelle che chiamiamo previsioni deterministiche, cioè la possibilità di dire dove, quando e quanto forte sarà il prossimo terremoto. Siamo ancora molto lontani da poter fare una previsione del genere, ma la stima della probabilità di un dato scuotimento in un intervallo di tempo è un'informazione preziosa che ci permette di fare scelte che riducano il rischio. Del resto, ognuno di noi, ogni giorno, fa scelte semplici o complesse, basate su stime di probabilità. Ma l'Italia è tra i paesi europei a più elevato rischio sismico, non solo a causa della sua pericolosità medio-alta, per frequenza e intensità dei fenomeni, ma anche a causa della vulnerabilità molto elevata per la fragilità del patrimonio edilizio, culturale, infrastrutturale e industriale e di un'esposizione altissima in termini di densità abitativa e valore del patrimonio storico, artistico e monumentale unico al mondo. Il rischio sismico è dato dalla combinazione proprio di questi tre fattori ed esprime la misura delle conseguenze in termini di vittime, feriti, danni economici e sociali che i terremoti in una data zona determinano sugli elementi esposti. Negli ultimi 60 anni, a partire dal sisma del 1968, anno del terremoto del Belice in Sicilia, si sono contate oltre 5.000 vittime ed un impatto economico complessivo superiore a 200 miliardi di euro, ovvero più di 4 miliardi di euro annui. Un bilancio davvero impressionante che sottolinea la necessità di rafforzare le politiche di prevenzione del nostro paese affinché i prossimi terremoti non causino le stesse vittime e gli stessi danni del passato. Ma esiste il rischio sismico zero? Nonostante la notevole eterogeneità delle caratteristiche del nostro territorio, il rischio sismico non può mai essere nullo. Per avere questo risultato, infatti, almeno uno dei tre parametri di pericolosità, di esposizione o di vulnerabilità dovrebbe essere uguale a zero. Questo significa, in altre parole, che bisogna essere consapevoli del fatto che il rischio sismico può essere ridotto ma non del tutto eliminato e che quindi rimarrà sempre una quantità di rischio residuo con cui convivere. Ma potremmo chiederci, lo Stato cosa ha fatto nel passato? Ebbene, già a fine 600 e poi nel 700 e nell'800, nei diversi stati italiani, si sono definite alcune regole che, in certi casi, hanno guidato le ricostruzioni dopo il terremoto. Ci torneremo su per parlare di Norcia. Ma è soprattutto nel secolo scorso che, a partire dal terremoto Calabro-Messinese del 1908, lo Stato è intervenuto classificando progressivamente il territorio in zone sismiche, sulla base principalmente dell'intensità e della frequenza dei terremoti del passato, e ha previsto norme specifiche per la progettazione delle costruzioni in tali zone. Tuttavia, è proprio il lento processo di classificazione sismica, uno dei responsabili dell'elevato livello di vulnerabilità sismica del nostro Paese. Infatti, anche se le prime norme antisismiche e la prima classificazione sismica dei comuni italiani risalgono ai primi anni del secolo scorso, la prima estensiva classificazione è avvenuta solo negli anni Ottanta e si è addirittura dovuta attendere il 2003 perché tutto il territorio italiano fosse classificato sismico e, di conseguenza, che le norme antisismiche fossero applicate sull'intero territorio nazionale. Gran parte del costruito del secolo scorso e ancor prima è quindi precedente all'obbligo di applicazione di qualsiasi norma sismica e ciò rende mediamente elevata la sua vulnerabilità. Oggi, invece, chiunque costruisca una nuova abitazione o intervenga su un'abitazione esistente, modificando le parti strutturali come muri portanti, solai, travi, pilastri, tetti o fondazioni e così via, è obbligato a farlo rispettando la normativa antisismica. Abbiamo parlato di vulnerabilità, ecco, fermiamoci un momento su questo concetto a partire da un esempio illuminante. Amatrice e Norcia, due centri urbani del centro Italia entrambi interessati dai recenti eventi sismici del 2016. Stesso terremoto, ma effetti completamente diversi. Nel caso di Amatrice, la città è stata praticamente rasa al suolo dal terremoto, riportando un totale di 237 vittime. Nel caso di Norcia, sia gli edifici di recente costruzione che quelli consolidati e migliorati sismicamente dopo il terremoto del 1979, hanno resistito tutti molto bene. Qualche edificio si è lesionato, ma niente crolli su edifici residenziali. Risultato, zero vittime. La città di Amatrice semplifica a grandi linee il rischio di molti altri centri abitati della nostra penisola, caratterizzati da vulnerabilità molto elevata, cioè da una elevata propensione dell'edificato ad essere danneggiato dal terremoto. Ricordiamoci, infatti, che è il crollo delle costruzioni a causare vittime e feriti, non il terremoto in quanto tale. I terremoti, a differenza di altri pericoli, non sono quindi prevedibili, ma abbiamo valutazioni affidabili sia sulla pericolosità che sulla vulnerabilità ed esposizione delle aree in cui viviamo. Per questo possiamo stimare il rischio delle diverse aree del nostro Paese. Il Dipartimento della Protezione Civile Italiana, con il supporto della comunità scientifica, ha recentemente fornito una valutazione aggiornata del rischio sismico del patrimonio edilizio residenziale a scala nazionale e nel 2018 sono state così prodotte mappe di rischio per una serie di indicatori utili per strategie di mitigazione del rischio. Con l'obiettivo di accrescere la conoscenza e la consapevolezza del rischio, queste mappe sono state rese disponibili alla comunità attraverso un apposito web tool liberamente accessibile, Sicuro Più, che sta per sistema informativo di comunicazione del rischio. Sicuro Più restituisce al cittadino una stima semplificata del livello di rischio sismico di un comune di interesse, nonché una valutazione delle componenti di pericolosità, esposizione e vulnerabilità. Per sapere quali sono le caratteristiche della sismicità di una certa area, della città in cui ognuno di noi abita, occorre conoscere la storia sismica. Per capire indicativamente quale terremoto possiamo aspettarci in futuro, occorre quindi guardare indietro, il più possibile. Tutti noi abbiamo avuto esperienza diretta o indiretta di terremoti, l'Aquila 2009, l'Emilia 2012, l'Italia Centrale 2016. Sono terremoti importanti che abbiamo vissuto direttamente o che sono entrati nelle nostre case attraverso la TV o i social. Ma non dobbiamo guardare solo agli eventi che accadono da qualche altra parte e di cui siamo di fatto spettatori. Molto più interessante è scoprire che anche nel nostro territorio, nella nostra città in passato, si sono verificati terremoti. Lo possiamo fare in tanti modi, ci sono banche dati che possiamo consultare liberamente, ci sono testimonianze, memorie che possiamo recuperare da persone che hanno vissuto eventi di decine di anni fa. Oppure ci sono tracce degli eventi più importanti, epigrafi, elementi votivi, tradizioni locali che ricordano un terremoto di tanto tempo fa. Ecco, imparare a guardarsi intorno, a riconoscere indizi di eventi accaduti in passato, recuperare testimonianze e condividerle è davvero importante e la scuola è lo spazio giusto per farlo. Come abbiamo visto, l'esempio della città di Norcia rende chiaro come la prevenzione strutturale può rendere più sicuri i nostri edifici e i nostri centri abitati e dunque salvaguardare le nostre vite e i nostri beni. Ma ridurre la vulnerabilità degli edifici non basta. Bisogna infatti essere consapevoli del rischio con cui si convive ed imparare a conoscerlo, in modo da sapere cosa fare in caso di terremoto, avere un piano familiare di emergenza e conoscere il piano di protezione civile del comune in cui si risiede o si lavora. In altre parole, prevenzione non strutturale. Anche questa, assieme alla prevenzione strutturale, è di estrema importanza per ridurre il rischio e la scuola è il luogo privilegiato per formare una comunità consapevole. La distruttività dei terremoti, seppur nella loro ineluttabilità, può essere contrastata aumentando la consapevolezza dei rischi e quindi le azioni di prevenzione. Essere consapevoli del rischio, imparare a convivere con esso quando si è in casa, si è al lavoro o si va in vacanza, adottare le più opportune misure preventive non significa limitare le proprie libertà, ma piuttosto fare in modo che il prossimo terremoto non faccia danni. solo così, in affiancamento alle misure introdotte dallo Stato, sarà possibile sempre più evitare il ripetersi di scenari distruttivi come quelli di Amatrice e di tanti altri centri italiani piccoli e grandi e salvaguardare al contempo le vite umane riducendo le perdite economiche come l'esperienza di Norcia, nel suo piccolo ma nel suo grande significato, ci insegna. Grazie. 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 Grazie.